Luca Mattu, direttore tecnico della Fight Nuoro Academy, tra qualche giorno una delegazione della società partirà per gli Stati Uniti per partecipare ad un importantissimo evento internazionale di Brazilian Jiu Jitsu. Di cosa si tratta? L'evento si chiama Punk Kids e questa è l'edizione del 2018. La delegazione nuorese è composta da Alessio Salis, Fabrizio Salis e Virginia Assur, tre piccoli atleti che hanno già conquistato vari titoli a livello italiano. Stavolta parteciperanno al più grande evento di Brazilian Jiu Jitsu a livello mondiale, a Long Beach in California. Quali gli obiettivi tecnici? Diciamo che questa è una prova importante. Lì saranno presenti i migliori atleti del mondo sotto i 15 anni. È un'ottima prova anche perché saranno presenti scuole importantissime, maestri di un certo livello. È una buona prova per vedere come se l'accavano i ragazzi. Una trasferta importante. Come vi siete organizzati? Ci siamo autofinanziati e poi abbiamo avuto anche una grossa mano da parte degli sponsor delle varie attività nuoresi. Mi sono allenato tanto, ma anche se so che dovrò affrontare avversari molto forti, stanno andando lì per vincere. Io mi alleno da cinque anni, ho fatto tante gare e anche questa volta voglio dare il massimo. Sono contento di andare in America, spero di vincere. Grazie. Grazie. Grazie.